Battaglia dei genitori tarantini assolutamente non secondaria a quella della salute. No, è assolutamente legata alla salute. Dobbiamo dire che la Costituzione è stata violata in moltissimi punti dai governi che si sono succeduti negli ultimi sette anni. E sono stati violati questi articoli della Costituzione tutti a Taranto, tutti per la stessa ragione. Garantire una produzione che a Genova è stata chiusa perché nociva per la salute di cittadini e di operai e a Taranto la stessa produzione è stata dichiarata strategica dallo Stato. Quindi considerando una parte d'Italia, quella nostra, assolutamente di serie B. Cosa che non è contemplato nella Costituzione. Bisogna poi dire che l'aggettivo fondamentale, per esempio, è nominato solamente una volta in tutti gli articoli della Costituzione. Ed è scritto proprio nell'articolo 32 quello che recita che la Repubblica tutela, quindi difende, garantisce, protegge la salute come diritto fondamentale dell'individuo e addirittura interesse della collettività. Quindi l'aggettivo fondamentale ci fa pensare a fondamenta, quello su cui viene costruito tutta la Casa Italia. Se cominciamo a minare questo diritto fondamentale stiamo minando l'intera Italia, l'intera Repubblica democratica. Il discorso è sempre quello. La salute di tutti i cittadini, compreso quelli che vanno a lavorare. Perché chi va a lavorare non smette i panni del cittadino per vestire quelli del lavoratore. Resta un cittadino. E la sua salute, la salubrità dell'ambiente in cui lavora, la sicurezza del posto in cui lavora e la dignità devono essere garantite per Costituzione tutte le aziende, non solo a Taranto, ma su tutto il territorio nazionale, che non garantiscano questi dettami costituzionali. Non solo devono essere chiuse, ma non hanno diritto di cittadinanza sull'intero suolo italiano.